Penso che continua a essere della mia idea Maria, non per partito preso, vorrei non mettere in discussione, l'ha bagnato, possiamo non mettere in discussione a meno lei, no no ma io non sto mettendo in discussione niente, lei parla di gusti personali, io parlo invece di cose oggettive e tecniche. Lei parla che a livello di esibizione dice, essendo due ballerini la giuria sceglie a seconda di un gusto, ha espresso un'opinione e un giudizio, non ha detto uno ha ballato meglio dell'altro, né a favore suo né a favore suo. No no ma questo io sono d'accordo che la giuria è qua apposta, non è questo il discorso mio. No però scusatemi, io sento l'italiano e capisco l'italiano, con tutto rispetto a lei, lei ha detto una cosa ben precisa, ha detto due ballerini che hanno eseguito una variazione di danza classica molto bene, uno meglio nella tecnica, l'altro meglio dal punto di vista interpretativo, la scelta nell'oggettività e a seconda del gusto.